Purtroppo sono questi inclinati perché... Gli ex voto? Eh, questi sono ex voto. Questi sono... Cosa sono gli ex voto? Tra l'altro, questa cappella è stata restaurata, no? Perché non è più la cappella del 1684, perché a un certo punto i disciplini sono stati eliminati da Francesco II Rasburgo nel 1768 perché erano molto ricchi, erano vicini morti e morituri, avevano un sacco di lasciti. Anche perché molti di questi morituri erano nobili? Eh, infatti, infatti, infatti. Tant'è vero che praticamente eliminando quelli la Chiesa è andata in disuso perché non sono più risorti i disciplini. La Chiesa era rimasta così a suo uso personale e è tornata con i patti lateranesi nel 1929, è tornata alla Curia, però i disciplini non sono più risorti ed è rimasta giusto per molti anni, perciò hanno completamente in abbandono totale e perciò c'è stato bisogno di un restauro. Dopo tanti anni, dieci anni fa, quindici anni fa, sono stati cominciati i restauri e così, come la vediamo ora, la vediamo restaurata. Ha cambiato un po' l'aspetto perché prima era eliminata solo dalla candela e ora c'era la luce elettrica. Prima era eliminata solo dalla candela e che le cantelle non erano di sego proprio, erano annerite e affumicato tutto. Perciò anche la fresco su non si vedeva. Si entrava dentro direttamente alla porta della cappella e a un certo punto l'impatto era terribile perché c'era un mare di candele nel buio e su c'era questa cupola che era indominata dalla luce artificiale normale e è veramente impressionante. Aveva un fascino però più misterioso e più arcano il fatto di entrare in un posto così. E anche questo corridoio era tale nel senso che erano tutti pieni di questi esvoto non solo qua, ma di qua, di qua, di qua anche lì c'è rimasto qualcosa dietro a quelle canastrelliere erano tutti pieni di esvoto che erano tutti un po' lì affumicati e ne restavano, erano stati tolti in attesa di restaurarli, di ripulirli poi non sono stati più rimesse purtroppo e è peccato perché ogni cuoricino di questi ha un vissuto alle spalle nel senso che è qualcuno che chiesse una grazia che l'ha ottenuta. Non c'erano solo di questi cuori che adesso quelli che sono stati tolti purtroppo sono giù in cantina ma c'erano anche dei quadri.